Non ho capito! 4 a 2 Germania-Portogallo al momento a mio parere la partita più bella di questo Euro 2021 bella a tutti i ragazzi eccoci qui finalmente tornati con un nuovissimo video riguardati gli europei di calcio vi ricordo praticamente 99% delle gare le trovate solo in esclusiva su questo canale dopo uscirà la Coppa America e chissà magari anche un episodio di bombe di mercato comunque 4 a 2 Germania-Portogallo il Portogallo che è passato in vantaggio con Cristiano Ronaldo in contropiede 1 a 0 e poi ragazzi due autogolli il primo di... chi è che aveva fatto il primo autogoll? uno l'ha fatto Guerreiro l'altro mi sa Pepe si incavola intanto qua Renato Sanchez fatemi prendere il telecomando che c'è il volume alto a 1000 ma ragazzi a prescindere di questo andiamo come i boomer visto che io ho il padre boomer e almeno posso so come utilizzare il televideo primo autogoll di Ruben Dias secondo nel giro di neanche 5 minuti di Guerreiro al 51esimo poi il raddoppio a Havertz e io porca miseria o un beso al fantacalcio Guerreiro titolare e Gosenz in panchino porca madonna ragazzi io non so veramente quanto dovrei sclerare comunque 4 minuti di recupero siamo al 90esimo poi ragazzi il Portogallo si è rifatto sotto perché ha fatto azioni al 67esimo infatti segna con Diogo Hota ragazzi adesso proveranno il tutto per tutto vediamo ci sono giocatori molto offensivi è entrato Andre Silva però ragazzi posso dire la verità il più deludente fino ad ora è ragazzi il signor Bruno Fernandes Bruno Fernandes a mio parere sta deludendo tantissimo ragazzi Bruno Fernandes veramente è vergognoso e scandaloso cioè per me sta facendo malissimo comunque 91esimo azioni per la Germania che cerca di costruire ancora costruisce la Germania il pallone indietro adesso Rudiga ricordiamo ragazzi che la Germania ha perso la prima partita ma ho visto ragazzi che l'hanno persa ma pensavo che stessero dando il loro massimo ma la Germania e la Francia stavano giocando piano ma invece ragazzi la Germania io l'ho data come terza in classifica e che non passa da terza in classifica io ragazzi sto avendo che la Germania possa essere la paura che la Germania sia la sorpresa di questo torneo scusate possa giocare ragazzi più che uno scherzetto mi sta puzzando la Germania mi puzza di cazzo sta puzzando tantissimo a mio parere comunque 92esimo ormai 91 e 45 attenzione palla recuperata dal Portogallo che cercherà almeno di fare più gol possibili per avere una differenza reti buona che comunque adesso è in positivo di un gol perché 3-0 contro Ungheria due gol fatti che portano a 5 e quattro subiti che portano a differenza comunque in positivo di uno stessa cosa ragazzi un gol preso all'andata ha preso nella prima partita la Germania contro la Francia due invece contro il Portogallo tre però ne hanno fatto quattro infatti positivo di uno mentre invece anche la Francia ha il positivo di uno mentre l'Ungheria è l'unica che ha il negativo negativo di ben quattro gol di negativo anzi di tre perché l'hanno fatto uno anche oggi comunque 92-40 squadre sul 4-2 per la Germania la partita fino ad ora più bella e vi ricordo sempre ogni volta iscrivetevi a questo canale quello di Marrastano Sport il secondo terzo canale Stefano Marrastano poi canale è un amico Gimo che ha 25 canali ne ha quattro uno è Gimo l'altro Gimo Corto l'altro Gimo Sport l'altro Gimo Racconti se non sbaglio comunque 93-esimo ovviamente la Germania cerca di fare un altro gol però senza scoprirsi per non prendere non la beffa ecco infatti perdo la palla attenzione qua Cristiano Ronaldo 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 il pallone filtrante attenzione qua la palla Neuer cosa ha fatto Neuer ha scortato ha ucciso Rudiger l'ha preso così alle lanci ha ucciso Rudiger e ha messo fuori la palla che ero è Neuer e fa vedere ancora una volta che lui ci mette proprio le mani ci mette i guantoni veramente un grandissimo portiere adesso c'è un mutigno voglia fare almeno il terzo gol a parte proprio per il tabellino magari se lo segna Cristiano il colpo di testa attenzione attenzione in aria il pallone ancora il Portogallo la palla vediamo se è rimessa dal fondo è corner sembra essere rimessa dal fondo si lamenta ovviamente Pepe come sempre ma comunque finisce qua la dai suoi tifosi Manuel Neuer finisce qua l'allianzalera finisce l'ultima gara della seconda giornata di Girone F in ogni caso dopo c'è Polonia Spagna finisce questa gara Germania Portogallo 2 a 4 autoretti che ha fatto il Portogallo di Guerreiro e Ruben Dias gol invece a Germania da Havertz e Robin Gosens dell'Atalanta reti del Portogallo di Diogo Jota e Cristiano Ronaldo noi ci vediamo dopo Bella